eccoci qua con sold out venerdì che bello che è il venerdì caro il mio Alan Viezzoli sì è sempre interessante il venerdì poi in realtà la gente ha questa bellissima aura sul venerdì perché effettivamente di solito è l'ultimo giorno di lavoro invece io lavoro anche sabato e la domenica quindi il venerdì resta un po' così appeso per me però diciamo sì che è sempre bello il venerdì ma secondo te interessa qualcuno che tu lavori sabato e la domenica no ovviamente no ma insomma di qualcosa dobbiamo pur parlare vuoi parlare del tempo vuoi parlare della Russia no dai no 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 noi rimaniamo sulla nostra onda di voler intrattenere il pubblico di farli capire vedere insomma in questo in questo venerdì se durante il weekend si può andare a vedere ad ascoltare qualcosa di bello oppure piacevolmente leggersi un buon libro esatto oppure come qualche milione di italiani immagino ieri tantissimi davanti alla televisione avrebbero dovuto un'enorme delusione io giuro non l'ho guardata la partita io non so di cosa stai parlando lo so allora c'è 59 milioni e passa che hanno visto la partita ieri uno anzi due che non l'hanno vista io e te ok c'è l'Italia che doveva assolutamente vincere per passare al turno di qualificazione per i mondiali in Qatar che ci saranno quest'anno in novembre stranamente in Qatar con orari possibili ah sì mi ricordo sì perché fa caldo d'estate quindi non possono farlo d'estate esatto cosa succede che noi avremmo dovuto stravinci contro la Macedonia del nord che sta a squadretta abbiamo ignobilmente perso ottima ottima cosa quindi se tu vedi delle facce tristi oggi per la strada sai il motivo adesso vabbè grazie per avermi avvisato e invece ci aglieta con la sua presenza veramente da tanto tempo che non viene qui a Radio Fragole siamo felici di averla ospite oggi Marta Pari ciao buongiorno ciao Marta Hangar Teatri il mitico Hangar Teatri che diventa sempre più bello e sempre di più vale la pena andare a vedere le cose che organizzate e sempre benvenuti tutti grazie è vero e poi vi state allargando state creando delle realtà diverse insomma cioè è piacevole secondo me è un momento un momento per andare a vedere gli spettacoli perché offrite una programmazione decisamente alternativa a quella che possono offrire gli altri teatri triestini per cui si può trovare quel io dico sempre i giovani vanno assolutamente seguiti perché si impara molto dai giovani questo è il mio pensiero sì sì grazie per questo pensiero comunque sì abbiamo una programmazione appunto molto varia in realtà che possa attirare tra virgolette sia giovani che anche meno giovani insomma bambini cerchiamo proprio di coprire tutte le fasce di età quindi non c'è distinzione insomma c'è posto per tutti in hangar fantastico ma soprattutto c'è una programmazione estremamente intensa perché non è insomma si fa si fa spettacolo quasi ogni sera sì e non dico ogni sera qualcosa di diverso ma quasi insomma sì sì facciamo ogni weekend venerdì sabato e domenica gli spettacoli a pagamento e spettacoli che possono appunto teatro danza concerti dipende un po' poi dalla programmazione e spesso lunedì c'è la nostra rassegna gratuita io amo lunedì che sono invece appunto gli eventi gratuiti più divulgativi partecipativi insomma quelli un po' più un po' più tranquilli per cominciare la settimana anche in modo un po' diverso da quale una volta ha partecipato anche il nostro Alan in qualità di esatto esatto esattamente è andato in meglio di sé eh guarda chissà il peggio no però è stata una bellissima esperienza sono molto felice che anche a teatro mi abbia dato questa opportunità insomma di fare questa sorta di spettacolo presentazione conferenza una cosa un po' ibrida che ci siamo inventati ma insomma secondo me ha avuto un buon successo sì sì ci piacciono le cose ibride in hangar comunque quindi ci sta comunque se sei riuscito a farlo te veramente lo possono fare esatto questo è questo è il messaggio scherzo naturalmente allora weekend intenso ad hangar teatri da dove partiamo? da stasera da stasera? per andare in ordine ok non confonderci parto io? beh beh vuoi che parto io? no parto io allora stasera alle otto e mezza c'è il secondo appuntamento con organizzato insieme al Kino Shishka di Ljubljana e quindi ci sarà un concerto e ospitiamo il duo Freekind Freekind sono un duo formato da tastiera e voce di Sara Esther Gredely Gredely croata e poi c'è Nina Koroszak Sercic slovena però loro sono diciamo basati insomma studiano e lavorano principalmente a Graz perché vengono dal conservatorio di Graz per l'occasione appunto saranno ospiti a Trieste in hangar teatri grazie alla collaborazione con il Kino Shishka perché è un gruppo che il Kino Shishka ha già presentato e seguito è stato ospite anche al loro festival e il loro il genere che presentano insomma è R&B pop groove sai che nei generi adesso elenchi un sacco di parole diverse sì sì bellissimo mi diverto esatto new groove jazz comunque è molto sono molto interessanti invito tutte a venire ovviamente ed è appunto secondo appuntamento col Kino Shishka che è una collaborazione di cui siamo molto contenti nuova brand new di quest'anno proprio che poi Adam che salutiamo grande come sempre al solito poi li raccontiamo con particolare ma lo raccontiamo più tardi va bene mi odierà tantissimo sta mandando in onda delle immagini poi al termine dell'intervista poi manderemo anche un video ascolteremo un accenno di quello che è la musica che si potrà andare ad ascoltare a godere questa sera ad Angar Teatri scusa permettimi di ricordare manderemo un video perché noi siamo in diretta su Radio Fragola sulla radio ovviamente ma potete anche vederci potete vedere noi due e soprattutto Marta che forse è più interessante rispetto a me e a te e su Facebook sulla pagina di Radio Fragola io spero che Adam inquadri solo Marta perché veramente la nostra presenza oggi è superflua non diamo per scontato però questa collaborazione con la Slovenia è secondo me molto importante sì allora questa è nata quest'anno proprio nel 2022 e la collaborazione con la Slovenia diciamo la stiamo facendo in due modi principalmente sul programma musicale perché eravamo un po' noi anche nella programmazione di Angar allora riparto noi in Angar crediamo molto nelle collaborazioni insomma anche appunto per questo riusciamo ad avere un programma così ricco così vario perché collaboriamo con diverse realtà e stavamo cercando tra virgolette stavamo pensando a un partner musicale che potesse un po' aiutarci appunto nella programmazione di concerti magari in un concerto al mese e ovviamente abbiamo pensato al Kino Shishka di Lubiana ci abbiamo provato è andata bene loro sono stati subito molto disponibili anche molto contenti perché che non era scontato perché in realtà il Kino Shishka e l'Angar Teatri sono due posti molto diversi ovviamente proprio fisicamente il Kino Shishka è molto più grande eccetera però sono stati molto disponibili e siamo riusciti appunto è una realtà per la Slovenia è un punto di riferimento totale per quanto riguarda la musica esatto esatto penso il maggiore punto di riferimento insomma per i concerti e anche poi il centro culturale perché fanno anche spettacoli di danza di teatro esposizioni di fotografie arti insomma anche quello comunque è un centro abbastanza a 360 gradi te ne ho dato una figata sì no assolutamente e con Kino Shishka siamo riusciti a preparare un programma di quattro concerti da febbraio a maggio infatti il primo c'è già stato il mese scorso con i pantaloons è andata benissimo è stato era sold out c'erano un sacco di persone l'angare era pieno abbiamo fatto il concerto e quindi è stato un vero successo adesso stasera c'è il secondo appuntamento e poi gli altri saranno uno ad aprile l'otto aprile con i Balance che è un altro gruppo per fare sempre una trafila di nomi minimal post punk insomma e poi i primi di maggio scudo un attimo canticchiami il minimal post punk no mi spiace ci arrivi dai mi affido a chi lo sa fare beh lo potete scoprire in hangar esatto piuttosto sì meglio molto meglio e poi ci sarà il 5 maggio ospiteremo i Gazelle and the Bears che sono un gruppo invece austriaco che sono diciamo fanno parte di un progetto europeo che il Kinoshishka promuove di circuitazione di giovani gruppi emergenti europei e quindi passeranno da Ljubljana e dopo verranno anche a Trieste in hangar insomma questi sono un po' più jazz new jazz per raggiungere beh quindi veramente è una cosa veramente interessante poi sai voi fate bene nel senso che io qua lancio un appello nel senso che iniziative come la vostra di proporre musica in città è fondamentale nel senso che a un certo punto c'è stato un momento in cui non c'era un luogo che potesse ospitare buona musica in questa città sì sì cerchiamo di fare anche quello ovviamente non è la nostra cosa principale però ecco è importante anche dare visibilità alla musica dal vivo no ma soprattutto questo tipo di musica se vogliamo la musica un po' più classica un po' più tradizionale fammi mettere tante virgolette insomma ha i suoi spazi però questo tipo di musica un po' più fuori dagli schemi o se non altro fuori dalle regole più commerciali effettivamente non ha uno spazio se non in hangar quindi è supermeritorio insomma grazie assolutamente 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 cosa vogliamo fare perché adesso parliamo anche un po' del del resto del weekend del resto del weekend però come tu ben sai c'è il nostro Alan che è praticamente il dicitore dell'istituzionale per cui vogliamo andare di istituzionale poi andiamo con il resto vogliamo fare un istituzionale totale in che senso te lo faccio te lo faccio capire proprio facendolo Alan vai con l'istituzionale del concerto di stasera allora stasera ore 20 e 30 il duo free kind scusami free kind free kind free kind ok scusa fermi mi sono perso scusami di solito lo fa bene di solito lo faccio bene più mi sono un attimo perso facciamo finta di dire allora appunto dicevamo la musica del vivo in hangar ok perfetto sentiamo Alan cosa ha da dirci stasera alle 20 e 30 il duo free kind biglietto unico per il concerto 8 euro per informazioni e prenotazioni potete scrivere a biglietteria chiocciola hangarteatri.com oppure telefonare al numero 388 39 80 768 oppure i biglietti sono disponibili anche su vivaticket.com ovviamente si entra con green pass mascherina e tutto le regole che sappiamo che valgono ancora per questo mese poi non si sa cosa succederà ma pare che le tirano via tra un po' proprio per quanto riguarda teatrici infatti per quello dicevo però per il momento valgono ancora intanto arriva il 31 che siamo fuori dall'emergenza covid per cui di conseguenza già è un modo per dire ah forse sarà poter succedere qualcosa vediamo poi nel proseguio cosa ci diranno poi torniamo insomma con queste due splendide musiciste e invece poi appunto dicendo che hangar ogni weekend propone qualcosa di veramente interessante arriviamo a sabato e domenica e torniamo un po' al discorso teatro esatto torniamo sulla nostra programmazione principale insomma sabato e domenica ospitiamo degli artisti che vengono da Napoli che sono nostri collaboratori di lunga data in realtà diciamo hanno collaborato ancora con dei workshop al centro universitario teatrale sono stati ospiti al TACT Festival che è il festival internazionale di teatro che organizziamo ogni anno e quindi con diverse formazioni proporranno due spettacoli domani sera sabato alle 20.30 c'è frammenti su tutto il Manfred ci saranno in scena Massimo Finelli e accompagnato dalle musiche di Duilio Meucci anche lui in scena che è un chitarrista un musicista chitarrista e è un'opera che è tratta dal Manfred appunto di Byron e racconta un po' del del tormento di un uomo con i suoi sensi di colpa a grandi linee è quelli che ho io tutte le mattine più o meno e poi invoca anche gli spiriti non so tu come te la gestisci la mattina ma insomma sì è una cosa che magari accomuna anche molte persone scusami e invece domenica ci sarà sempre Duilio Meucci questa volta alle 19 ma questo dopo lo dice Alan insomma visto che lo dice anche meglio di me ci sarà sempre Duilio Meucci alla chitarra che accompagna invece Patrizia Eger con Canticopera che è la storia di una donna insomma diciamo è una storia che parla di amore possessività abbandono e anche uccisione del marito quindi anche abbastanza intensa anche quella quindi questo sarà il nostro weekend teatrale Alan vai ma così proprio d'amblè andiamo spudoratamente a dare un po' di informazioni ma giusto per visto che comunque c'è anche l'ausilio delle grafiche di Adam esatto per dare la possibilità al pubblico quello che ci sta ovviamente guardando sulla nostra pagina Facebook di Radio Fragola per segnarsi magari con più facilità il numero di telefono video che rimane lì per cui comunque poi fa il giro di tutti i gruppi triestini insomma poi va lui va va e fa il suo percorso da solo allora stiamo parlando di due spettacoli oggi eh scusatemi sabato ma cos'hai oggi stamattina sono un po' così scusatemi sabato 26 marzo è per colpa dello spettacolo di sensi di colpa forse sì forse sono i sensi di colpa no lo faccio bene sono due spettacoli tu devi cominciare ad usare il microonde questo è tu lo sai che lui ha comprato casa no? la casa meravigliosa fantastica e all'interno c'è proprio incassato c'è anche un bellissimo microonde che lui non adopera perché? te lo stiamo chiedendo tutti ma perché io per 38 anni della mia vita non ho mai avuto un microonde e non è una cosa che mi viene da usare è un attimo abituarsi comunque è incassato basta premere tac un tasto comunque basta che butti dentro la roba e premi un tasto non lo farò prometto che lo farò comunque istituzionale sabato 26 e domenica 27 due spettacoli sabato 26 frammenti su tutto il Manfred alle ore 20 e 30 mentre domenica 27 Canticopera alle ore 19 il biglietto intero costa 12 euro ridotto di 8 euro per i soci del teatro degli sterpi per i soci cut gli under 18 gli over 65 e gli studenti universitari anche qui è possibile avere informazioni e prenotazioni contattando scrivendo alla mail biglietteria chiocciola hangarteatri.com oppure telefonando al 388 39 80 768 i biglietti sono in pre vendita anche sul sito vivaticket.com se volete più informazioni sullo sullo spettacolo su questo spettacolo e su tutti gli spettacoli di Hangar c'è il sito hangarteatri.com aggiungo un'informazione perché non ce l'avevate che in realtà essendo appunto la stessa compagnia la stessa compagnia insomma divisa in diverse formazioni facciamo anche questa offerta adesso suona un po' supermercato due per uno nel senso che se ci si prenota è possibile comprare i biglietti di entrambi gli spettacoli in questo modo il primo ingresso è ridotto quindi 8 euro mentre il secondo è un biglietto cortesia 3 euro così c'è questo pacchetto per assistere a tutti e due ottimo 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 senti Marta visto che abbiamo la fortuna di averti qua perché di solito vengono i tuoi colleghi le tue colleghe ormai siamo stufi di sentire le loro storie raccontaci invece un po' la tua dai da dove? raccontando te racconti anche hangar allora da dove cominciare? beh parto dal mio ruolo in hangar insomma così mi contestualizzo un pochino io sono parte dei soci di hangar teatri e il mio compito principale diciamo il mio ruolo principale all'interno della squadra è quello di ricerca fondi questo semplice ruolo no è fondamentale sì esatto questo ruolo marginale allora diciamolo anche agli altri che ci stanno ascoltando senza di te non ci sarebbe hangar adesso non me non me non me ne vado con un groppo no però sì diciamo che è un aspetto abbastanza importante nei vari aspetti ecco e quindi infatti loro mi chiamano la progettista quindi mi occupo sostanzialmente sì di scrivere progetti ricercare fondi anche stringere collaborazioni poi ovviamente tutti abbiamo dei compiti ma facciamo anche un po' tutto insomma la supervisione generale vedere che vada tutto bene quello abbiamo sempre tutto tutti in occhio su quello sono ormai tre anni che faccio che faccio questo lavoro con hangar che tra l'altro anni fa dopo che mi ero laureata anche spinto diciamo ha investito su di me in un certo senso per perché io facessi un tirocino quindi mi ha cofinanziato diciamo un tirocino da ALDA che è un'associazione europea a sedia Vicenza che è proprio specializzata in progetti europei e ho lavorato un anno con loro in modo da prendere l'arte diciamo dei progetti europei in questo caso portarla qua e cominciare a avere sì anche un po' più di competenza nella progettazione adesso sta andando bene anche questa parte insomma adesso ovviamente non lo voglio mai dire troppo perché è sempre insomma i risultati sai i bandi le cose conosciamo bene sempre con l'ansia che si andrà bene soprattutto in questi giorni ci saranno delle risposte quindi siamo un po' cioè io sono un po' però sì quindi diciamo io sono chiamata amichevolmente la progettista in Hangar questo è un po' sì e dopo diciamo anche essere parte di Hangar mi ha portato a voler rimanere a Trieste eccetera eccetera mi ha proprio trovato la seconda casa sì perché per alcuni di voi appunto c'era il tipo di lavoro che facciamo insomma molto difficile molto complicato anche in una città piccola come la nostra insomma di solito la strada poi che uno segue prima di andarsene dalla città invece noi invece siamo arrivati tutti perché quasi nessuno di noi è triestino esatto tutti arrivati classico percorso arrivi all'università e poi dopo siamo tutti partiti dal centro universitario teatrale dopo è partita questa idea di creare un gruppo più più professionista insomma di teatro io in realtà sono non sono attrice a differenza di tutti gli altri del team dell'Hangar sono quella che cerca di gestirli gli artisti adesso lo dico perché non c'è qua nessuno poi quando torno no scherzo e e dopo insomma abbiamo creduto in questo progetto è nato questo progetto e ci siamo cioè questo ci ha anche un po' fatto dire va bene allora investiamo anche sulla città e Trieste diventa un po' diventa casa nostra a questo punto e secondo me avete fatto una scelta importante e che darà sicuramente dei risultati nel senso che comunque sai Trieste è una città strana che però ti affascina ti corrompe ti prende a un certo punto sì alla fine ti convince sempre perché anche se hai detto io ogni tanto devo dire adesso non so quanto posso dire l'altra voce ogni tanto no ho dei dubbi insomma dico ma Trieste però poi dopo alla fine ti ti convince ti conquista questo è uno dei motivi per cui bisogna andare in Hangar Teatri cioè incontrare persone meravigliose come come Marta che ci mette l'anima ci mette il cuore per realizzare quello che che è il loro sogno che poi che poi dovrebbe diventare anche poi se serve a realizzare i sogni anche degli altri soprattutto del pubblico che viene a vedere i vostri spettacoli esatto o che vuole proporre fare insomma l'Hangar è anche un po' sperimentazione apertura non solo spettacolo quindi c'è proprio varietà anche di azione ecco libertà di azione allora ripetiamo un po' perché oggi voglio essere più preciso rispetto a me che sono stato molto impreciso almeno qualcuno che sia preciso ripetiamo un po' come passeremo tutti i weekend in Hangar Teatri dai con gli spettacoli sì li ripetiamo ah ok li ripete Alan vuoi che lo faccia Alan? a farlo un tempo non potete a questo weekend sì sì questo lui ha dato tutto per dire tutto il weekend tutto è tutto stavo già pensando da qui a maggio no scusalo siamo tutti e due un po' con la lingua altrove confusionale allora ok peccato male oggi ti spiego perché perché siccome adesso questa è l'ultima puntata prima di una breve pausa che ci prendiamo ad aprile abbiamo già la testa altrove abbiamo già la testa in vacanza allora ci penso io faccio un po' di ordine vai 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 il tuo compito in Hangar ce l'è anche qua a Radiofragora allora questa sera venerdì 25 marzo ore 8 e 30 ci sarà lo spettacolo sì lo spettacolo finissimo ci sarà il concerto del duo prende poi sai prende il concerto del duo Freekind un duo sloveno croato in collaborazione con il Kino Shishka di Rubiana invece domani sera sabato sera alle 20 e 30 frammenti su tutto il Manfred con Massimo Finelli e Duilo Meucci e domenica 27 marzo alle 19 Canticopera con Patrizia Eger e Duilo Meucci e qua interviene lui che dovrebbe dare tutte le informazioni tecniche le posso puoi darle tu sì le so a memoria allora è consigliata la prenotazione è possibile prenotare scrivendo una mail a biglietteria chioccelangarteatri.com o scrivendo o chiamando il numero 388 398 0768 i biglietti sono disponibili anche su Viva Ticket basta sono queste le informazioni tecniche direi perfetto sì perfetto promosso se non lo sa lei che no no perfetto perfettissimo va bene perfetto senti cosa ti fai ascoltare adesso adesso vi faccio ascoltare un pezzo delle Freekind che si chiama Remember Me no Remember solo Remember grazie infinite Marta grazie a voi a presto ciao ciao vai Adam grazie a voi Grazie a tutti. 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 Buongiorno a tutti. Ciao Diego, ciao Francesco. Grazie a tutti. 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 perché a tutti. Grazie 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 a tutti. di rubiamo i ricchi per darli all'oste praticamente per sfarmare lo stomaco ok e perché questa ambientazione perché poi c'è un personaggio il protagonista che è un po particolare insomma non è tipicamente triestino il protagonista bisiaco come d'altronde lo sono anch'io quindi è già un mondo altro rispetto a trieste già un oltre il fiume l'ambientazione è una carnea che che non è la carnea carnea geografica seppur rispecchia molto nella geografia cioè la geografia è proprio precisa con luoghi cime boschi fiumi però è anche un mondo altro una sorta di mondo del sogno immaginato una carnea che rappresenta un qualcosa di diverso dalla nostra della nostra città e quindi una fuga quasi un scappare dal mondo della città quindi non è la carnea vera e propria con le sue realtà ma è una carnea come noi le immaginiamo ecco ti faccio una domanda che non c'entra niente ma scusami perché mi è caduto un occhio tu vivi a sales che io l'ho provato a cercarla sales te lo giuro non la trovo giusto perché noi non vogliamo che la realtà chiusa indipendente dove sta sales è una frazione di ronchi dei legionari anche se noi abbiamo sempre una volontà indipendentista rispetto a ronchi si si però si è fra doberdò e ronchi alle pendici del carso proprio ok va bene no scusami perché così così ti collochiamo anche come ti immaginiamo tu a scrivere a sales ecco meraviglioso questo e allora vogliamo cominciare a dare un accenno giusto per entrare ancora di più nello spirito del romanzo sì con piacere allora francesco parole tue scusami francesco mi ha mi ha consigliato due pagine da da leggere e cosa partiamo lo facciamo decidere a lui beh c'è una che che proprio introduttivo di cosa sono i briganti è ottima come prima esatto infatti partirei da questa e dice così i briganti sono un gruppo di gente che semplicemente ne ha le balle piene sì me l'hai detto tipo 15 volte ma di preciso cosa fate rapinate la gente e poi non dovrei dirtelo è un segreto ma beh non è mica solo quello a parte che non ci limitiamo agli escursionisti rubiamo anche nelle auto parcheggiate e nei locali che ci stanno più sulle balle tipo sapevi che ci sono rifugi che ci arrivi sui macchina e la sera fanno gli aperitivi vestiti tutti da stronzi alla moda con il dj e tutto che pare di essere a milano beh posti così se gli rubi l'incasso è sacrosanto ti pare faccio di sì con la testa perché ormai inizio a entrare nella fase calante della ciucca e non è che sono tanto presente marino invece va avanti a parlare meno male che è un segreto ma non è che rubiamo soldi per arricchirci figurati cosa ci frega di queste stronzate la grana è solo un mezzo serve per finanziare i banchetti e tutto il resto banchetti dai vieni ti mostro che stiamo prima è quasi ora di iniziare in fin dei conti camminiamo tantissimo o forse no che ne so magari normalmente sarebbe solo mezz'ora di distanza ma vorrei vedere voi su un sentierino di montagna dopo una bevuta colossale sentiero per modo di dire poi è una traccia che attraversa i pascoli tagliando la costa della montagna per portare un picco isolato una piccola cima rotonda coperta solo per metà della boscaglia qua è bellissimo il sole è già basso l'aria è terza ma il panorama sul fondo della valle si sta già volgendo nella malinconia della sera uno spiazzo nel bosco fiaccole gente stravaccata fisarmoniche e trombe cani che vagolano una tavola enorme fatta con quattro tonchi da bete segati per metà nel senso della lunghezza un bacile colossale e sotto un fuoco odore di fritto un ragazzo smilzo che arriva con una damigiana la gente lo acclama marino mi strattona per la manica della giacca e mi porta verso di loro grande grande ma è stato scritto in un momento particolare tu mi hai un po accennato insomma per per uscire un po dalla tua monotonia da cose di che non voglio sapere della tua vita ma c'è stato un certo punto voglio proprio essere di una cattiveria mostruosa rispetto ad un determinato argomento oppure sei di tuo così cioè come sono sono abbastanza selvatico ci sono dei momenti in cui lo soffro di più ma in genere si la tendenza è quella quindi diciamo che la scrittura in qualche modo ti può aiutare anche terapeutica assolutamente diciamo che da dallo sfogo a parte di me che che altrimenti rimangono in silenzio cioè lo scrivere sempre un po autobiografico ma non lo è mai completamente cioè non sei mai il protagonista quella è una parte di te che però se non gli dai voce nelle nelle canne sulla carta altrimenti rimarrebbe inespressa a meno che non non mi prendo e vado veramente superi monti a picchiare gente però diciamo che è meglio che resti letterario ma sì 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 ma io penso che questa possa anche diventare una un inizio di una saga posso posso intuirlo è assolutamente in mente delle idee infatti esattamente a questo gruppetto di simpaticoni poi ne combina di tutti i colori immagino assolutamente sì anche perché ovviamente le forze dell'ordine non non li prendono di buon occhio e neanche certi ristoratori locali il turismo e quindi si sviluppa tutta una faida fra fra la loro volontà di libertà e chi invece cerca di di riprenderseli e ovviamente condannarli quindi va bene non spoglieriamo niente tranquilli non diciamo nulla della storia diamo solamente degli accenni poi ovviamente il libro va comprato va acquistato e valette insomma soprattutto acquistato dopo letto secondario e anche più copie volendo cioè uno va là compra cinque copie perché non si sa mai una per leggerla una per tenerla non soecita esatto una per regalarla ecco anche se siamo a marzo inizio di aprile c'è sempre natale no volendo quindi non c'è ma scusa introduciamo i regali di pasqua ci sono i regali di natale facciamo anche i regali di pasqua dentro l'uovo troviamo i libri di diego manda fantastico bellissima sta cosa diego lo chiedo sempre cosa ti ha convinto a pubblicare francesco boe allora boe sapevo di andare sul sicuro perché francesco non è il primo libro che fa è già un autore anche di editori nazionali e quindi quando mi ha mi ha mandato il manoscritto tra l'altro fatto benissimo con la sinossi proprio fatto bene quindi come quelli veri come quelli veri con la biografia dell'autore la sinossi quindi già la quarta di copertina già fatta quindi tutto questo si traduce in meno lavoro quindi già si presenta bene poi sapevo che non c'era tanto da correggere e poi leggendolo ho avuto la stessa reazione di alam cioè era si vede che era non so forse era quello che volevo leggere in quel periodo lì però la storia mi è piaciuta da subito dal fin dal primo capitolo quando descrive un po la prima la prima serata dai briganti e quindi non sono riuscito a smettere di leggere l'ho letto fino alla fine i capitoli dopo sono ancora più più spassosi più particolari ci sono degli episodi veramente fantastici e al di là degli dei singoli episodi che quindi comunque mantengono l'interesse nella lettura c'è tutto quello che c'è nel fondo il messaggio di fondo anche è una cosa che condivido abbastanza non di andare in giro a pestare i turisti e a rubargli i soldi ma è un ritorno alla natura un vivere più lentamente più in maniera tranquilla ecco però come dice francesco è ben nascosto proprio nel nei singoli episodi nel nella bellezza proprio delle descrizioni dei 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 di questi episodi e diciamo questa goliardia insomma perché poi vabbè a parte dall'aspetto tecnico che insomma fa parte del raccontare per cui poi raccontare in comico necessariamente devi un po esagerare anche nelle esuberanze dei protagonisti della vicenda questo aspetto un po goliardico si riproporrà io spero nelle 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 tante presentazioni che si andranno a fare sì avremo un tour di presentazione perché l'altra cosa che mi ha convinto a pubblicarlo è che questo questo libro si 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 presta si presta delle presentazioni anche culinarie con cibo bevute eccetera e quindi e poi essendo un titolo che va oltre il ti mavo appunto lo presenteremo in giro quindi abbiamo già presentazione in mo falcone a trieste a ronchi saranzano quindi per adesso siamo in nella venezia giulia scusa scusa se ti interroppo un attimo è venuto un flash no perché io ogni tanto vedo diego che corre da una parte all'altra tra la libreria e l'altra consegnare copie no adesso ti tocca tutta la regione in pratica adesso si infatti dovrò usare più l'auto che la bici di solito faccio le consegne in bicicletta sono molto contento di questa cosa adesso per portare i libri già ho fatto già il giro del di parte del friuli e ho dovuto usare l'auto ovviamente quindi altro che ritorno alla natura questo contrasto ci dar bolina infatti una grande domanda è quando andrai in carni effettivamente a lasciare il libro lì come la prenderanno quelli del luogo perché la mia idea di carnia ovviamente è diversa della carnia reale sono sempre chiesto se la prendono bene o se verrò esiliato per sempre rischi al linciaggio tu dici chissà vedremo no no assolutamente no io sono sicuro invece che ci sarà gran divertimento nel leggere questo libro e quindi ritornando alle presentazioni allora la prima la primissima è domenica tre aprile a mezzogiorno alle dieci e mezza ecco cominciamo a sbagliare a monfaicon al festival geografie cosa di cui siamo molto orgogliosi di essere ospiti al festival tra l'altro presenterà roberto covaz quindi per noi il top e poi saremo a trieste il 7 aprile venerdì 7 aprile alle 18 giove vedi giovedì 7 aprile 7 era giusto guarda che oggi è giornata come avete sentito anche ma come avete sentito nella prima parte la giornata oggi è così per cui non ci sono problemi anzi chi non sbaglia c'è veramente fuori giovedì 7 aprile ore 18 al cemut altri posti non potevano esserci cemut per chi non lo sapesse dico te dai sai che non so cosa la traduzione precisa no no ma non ce ne frega niente la traduzione meno male queste domande di lingua di urana il luogo ci interessa ah ok non so neanche il nome della via in realtà lo so descrivere in locali vicini alla via dei capitelli 11 via dei capitelli esatto esatto dietro piazza unità ci arrivi attirato da dagli odori di frico esatto l'abbiamo scelto proprio perché ci sembrava la scelta più azzecata è una bellissima piccolissima osteria fullana esatto esatto sì e lì ci presenta massimo gobessi quindi anche di questo siamo molto felici ciao massimo grande massimo dai che con sconfinamenti ci ci alliete insomma ogni poveriggio sulla su radio rai e poi le altre non hanno ancora una data in realtà quindi per adesso non non lo dire non lo possiamo dire perché non abbiamo fissato date comunque ok tendenzialmente aprile sarà un tour dei briganti però secondo me vale la pena di seguirle io ho questo sospetto insomma penso di sì una sarà tendenzialmente vorremmo farla in osmizza e poi altre nei rifugi proprio a questo punto poi troveremo sul sito le date assolutamente sì 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 su www.bora.la aggiorneremo tutto quanto via via bene tra l'altro bora.la dove potete anche comprare il libro se non volete passare in libreria lo trovate in libreria lo trovate su bora.la e ovviamente lo trovate anche su amazon o se incontrate per strada diego ma se tu ce l'hai questo eccolo qua tendenzialmente o sono sempre con lo zaino potrebbe essere che ci sia anche il libro dentro francesco cosa mi vuoi raccontare per stimolare appunto l'acquisto di questo di questo libro di questo romanzo di questo di questo di questa pubblicazione beh potremmo dire che appunto da molte idee per ricette che sono assolutamente non non salutari che però sono state anche profetiche perché certe le ho messe veramente in pratica certe le ho viste quindi si va dalla pizza con con tutte le cose sopra e alla pizza i quattro salami la capra alla griglia oppure il salame impanato insomma qualsiasi cosa quando l'ho scritto dopo sono andato se non sbaglio la prodo avevo visto questo salame impanato un giorno e avevo visto ma quindi è diventato realtà si esiste anche buono alla prodo quello che sta vicino via carducci ah in via carducci quello è meraviglioso quel posto eh ragazzi quello è fonte di ispirazione letteraria caspita di prima categoria ma ogni giorno uno dice andrei ovviamente ma sono a dieta andiamo avanti allora Alan si se vuoi leggo ancora un passo proseguiamo dai l'ho preso un po' più lungo perché mi faceva molto piacere l'ha preso un po' più lungo possiamo perché mi faceva piacere anche partire proprio dall'inizio del capitolo perché racconta un po' questo se posso permettermi questo scazzo dei briganti anche in certi momenti che uno pensa sì sono quelli che vanno in giro fanno mille cose in realtà no in realtà si scazzano quasi a fare anche le cose che dovrebbero fare da briganti in quanto briganti il fisico cede dopo un po' la mattina ci si sveglia con calma tanto fuori piove niente di che una pioggiarellina giusto quel che basta per rompere i coglioni e farti passare quella poca voglia che avevi di uscire dalle coperte infatti ci restiamo tanto siamo briganti e facciamo quel cazzo che vogliamo ci alziamo appena le dieci e mezza colazione con caffè latte pane nero pucciato nel miele scritta così forse non sembra ma niente male svacco fino a pranzo pasta col tonno pomodoro e olive altro caffè bella vita e luna quando smette di piovere quasi dispiace Lorenzo fa con sto tempo non ci sarà un cane per i sentieri già che siamo qua potremmo andare verso il rifugio Marinelli lì si trova sempre qualche pirla che con questo tempo si ostina a fare la sua cazzo di escursione non è neanche tanto lontano e poi abbiamo le bici la caccia inizio la botta di adrenalina si parte le bici sgommano a tutta velocità sulla strada sterrata a tutta velocità i primi 200 metri poi già ci si stufa l'adrenalina è durata poco vabbè però la caccia continua solo con più calma tanto che fretta c'è Marino aveva ragione non passa molto che incrociamo un escursionista impermeabile blu zainone che mi chiedo cosa abbia da portarsi dietro tanta roba neanche andassi in Amazzonia per un mese e solo perfetto parte il piano d'attacco Marino e Lorenzo si lanciano con la bici a tutta velocità ai due lati della carareccia uno di qua e l'altro di là con una mano tengono il manubrio con l'altra una catena bella pesante presa dal magazzino della casera l'escursionista è in mezzo gli arrivano incontro quando lui si accorge è troppo tardi la catena lo falcia cade a terra facendo una sorta di salto mortale a metà a metà nel senso che atterra a muso però lo strattone tira giù dalle bici anche i due briganti che si fanno un volo non da poco esploda a ridere perché la scena è veramente cogliona e poi come cosa succederà come effettivamente se effettivamente riusciranno a rapinare l'escursionista lo lasciamo a chi comprerà il libro beh beccate questa cioè è proprio cattivissimo e no e si chiama cliffhanger in gergo in gergo televisivo hai capito diamo diamo un un assaggio e poi se volete sapere come va a finire c'è il libro in libreria che vi aspetta capito con che abbiamo a che fare giusto e beh mica roba da poco ecco allora Francesco ma giusto per perché abbiamo solamente detto sì vabbè lui ha già pubblicato roba chi se ne frega no diamo un po' un significato a quello che è stato detto prima nel senso che tu non sei al tuo primo lavoro no anzi ho un eccesso di produzione per cui dovrei un po' frenarmi sempre per il tuo problema che conosciamo ormai che appunto in maniera terapeutica tu scrivi ecco esatto ma anche per il piacere ma ovvio mi metto uno sfogo che bello fare chiaro 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 quindi è già pubblicato anche per case editrici nazionali sì sì sia nella regione qui ho pubblicato con Bruno Facchin una guida sulla Trieste più misteriosa e e con un'editrice Umbra invece ultimamente una guida ai misteri del Trieste di Venezia Giulia ho però ho pubblicato anche narrativa con Mursia e recentemente un libro che ha avuto una buona fortuna devo dire perché quando ne scrivi tanti almeno uno non lo va dai e dai alla fine con il saggiatore si chiama Troverai più nei boschi ed è un libro illustrato di simbologia della natura che la simbologia è uno dei miei temi conduttori bene beh adesso hai firmato un contratto per i prossimi 42 anni con Diego e quindi pubblicherai solo con lui d'ora in poi beh beh devo dire che è molto bravo è uno dei migliori editori con cui ho lavorato c'è oh eh caspita è grande proprio siamo messi d'accordo prima per questa frase ovvio ovvio Diego un accenno solamente come stanno andando quelle cose in questo periodo nel senso che io chiedo a tutti a livello di teatro di musica come sta andando eh Trieste si comprano i libri c'è questo continuo interesse Trieste è poi una grande città eh per 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 l'editoria insomma sì beh c'è stato il il classico periodo dell'anno di gennaio febbraio in cui c'è una una fase di pigrizia dell'andare in libreria dopo le grandi le grandi abbuffate di Natale ne ho speso tutto a Natale ragazzi quello succede sempre gennaio febbraio sono due mesi un po' così eh però no in realtà Trieste si legge tanto eh le cose vanno bene e poi c'è sempre questo interesse per i temi locali i triestini sono sempre tanto tanto eh autoreferenziali piace leggere cose su Trieste o sul o sul sulla nostra regione e quindi sì adesso questa 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 questo test quasi dai di espanderci fino in Carnia e paradiso sta andando bene sono contento e poi si vedrà insomma vedremo le presentazioni le presentazioni ci divertiremo comunque vada sarà un successo perché per i posti dove le facciamo non possiamo fare altro che divertirci è chiaro e noi ci saremo siamo in chiusura vuoi fare un un istituzionale al volo sì beh più o meno l'ho detto insomma il libro è di 144 pagine lo trovate in libreria e lo trovate online sul sito borra.la oppure su Amazon bene noi vi ringraziamo veramente tanto tanto con con Diego ci rivediamo il prossimo mese esatto con Francesco vai 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 finisci finisci no con Francesco il prossimo libro sicuramente e dicevi facciamo una cosa istituzionale noi che diciamo che noi andiamo un piccolo facciamo una piccola pausa ci prendiamo aprile per così per rilassarci c'è Pasqua ci sono mille cose e ci ritroviamo a maggio il primo venerdì di maggio con Diego Manna con Diego Manna se ti va sì sì ci sarò ci sarò perfetto e soprattutto tutto maggio non so se possiamo già dirlo tutto maggio ci sarà una bella sorpresa va bene Fersetto non possiamo ancora dire nulla grazie infinite Francesco Boer Diego Manna e diamo un buon proseguimento alle trasmissioni di Radio Fragola e al GR che ci sta per tagliare come sempre ciao a tutti grazie Adam in regia grazie mingda e Adam grazie a tutti